Sviluppo economico ed occupazione è un binomio ovviamente strettamente intimamente legato e si apre poi la piaga anche della fuga dei cervelli. L'occupazione appunto non cresce e molti giovani sono costretti una volta laureati a tentare fortuna altrove. Di tutto questo parliamo con il dottor Stefano Liuzzi candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega con Raffaele Fitto candidato presidente. Sviluppo, è evidente che la provincia di Taranto è da sempre un territorio industriale, a vocazione industriale. Non parlo soltanto da Arselon Mittal adesso, Ilva prima o Ital Sider prima, ma a Taranto ricordiamoci all'inizio del secolo era Cantieri Navali, era Arsenale. Quindi c'è sempre stata una forma di industrializzazione che ha sorretto la provincia. L'agricoltura è fondamentale, oggi si parla tanto di turismo, ma parlare di turismo per esempio, che credo possa essere uno dei volani per lo sviluppo economico e anche occupazionale, ha necessità di infrastrutture. Vi do dei numeri, quindi parliamo brevemente di turismo. Per fare turismo devi offrire recettività, devi offrire posti letto in provincia di Taranto, tranne il versante occidentale, quindi Ginosa Castellaneta dove c'è il Valentino e altre strutture che può offrire circa 12.000 posti letto, Taranto presenta nel suo complesso 1.200 posti letto. Il versante orientale, quello col mare forse più bello, il mare quasi caraibico, presenta in tutto 1.000 posti letto. Ora, come possiamo attirare turisti e non offrire ospitalità? Quindi credo che uno degli aspetti fondamentali sia questo, creare infrastrutture, quindi strade per raggiungere, parcheggi e posti letto. Una proposta che mi viene naturale da poter presentare in consiglio regionale, visto che questa è una competenza regionale, una sorta di piano regolatore straordinario per l'edilizia turistica. Quindi la regione può fare, è sua competenza, degli accordi di programmi con i comuni rivieraschi, sempre salvaguardando evidentemente gli aspetti ambientali, gli aspetti urbanistici, però può fare un piano straordinario per la creazione di posti letto, di parcheggi, di infrastrutture. Credo che questo debba essere il primo passo per poter parlare finalmente di turismo. Grazie.